capito meglio sardi che mai meglio sardi sudici si ammazza tutti sudici c'è ma io dico sono nato subì in un punto casuale della mappa nasco muoio ora o quello li stava sparando in un punto nullo a caso rianima mi posso che cazzo è paolo c'è un medico su di me zero metri mi sta calpestando il cadavere non mi rianima ma perché sto scemo qua sarà il sicuramente con le cure e lancia granate perché medico ritardato ma devono fare come parte di 3 che la specializzazione di classe è impossibile da levare così si è obbligato ad avere animatori donna che cold and light madonna figlia di una barata anche a me cazzo da fare spiegato di me ma eri subì eri subita ho fatto non ci vanno rai lo canzzi idea io sto spavando le gravi di camara ma cosa fa ma dai raga trigger finger con zip morto ragazzi ho ucciso jimmy ho ucciso jimmy ho ucciso jimmy ho ucciso uno che si chiama ma perché non si possono usare i cannoni d'artiglieria mi chiamisce simbolo dell'albo però non l'albo e quindi per la radio lo sai perché aree no e non mi interessa perché ti buttare più leggo davvero il fatto di scuicare però vabbè vai abbiamo perso l'obiettivo con munizioni c'è qualcuno vicino a me con le munizioni donna subito ho bagato la maschera a gas ho bagato la maschera a gas c'era in giallo ma non c'era solo no rica è sparito al nemico e quando lancia la granata a gas non prendi danno in pratica sì è un kit che hanno tutti tutti serve per evitare di prendere danno dalla gas però quando c'è nessuno puoi mirare beh serve a rendere il gioco un attimo più granata partita non frenetico però complicato diciamo ti complichi le cose alla gente c'è se c'è un cecchino di butti la gas diciamo non ti può mirare anche se tanto la scuola per la città o ma dai ero inter god c'è bastardo di voi che mi ha rubato il tipo c'è sì dai no cazzo ma l'ho scontato quello nel futuro basta diciamo ti sparo sono di merda ma no guarda ma come ammazza devi dirla della l'inter god e uccide dove è andato ai tuoi sui due sui due trecento guarda vado quanti ne sto tirando gente no la gas no minchia hanno colpito uno stuzzavallo a 60 eccomi no il gas merda mi servono le munizioni perché tu ne non fai più supporto mi piace qualcuno ha dei proiettili questa granata è tutta per loro oh mi fai più libertà no mi sento la pasta raga a che ora andiamo alla stagione disco boh tu ne devi dai non è la destecuta la goduria che provo nell'accontellarti no dai carro pesante non c'è dove c'è il cecchino c'è anche un carro di fianco che sta cecchinando col carro ok ok sims legit chi è quello con l'aereo ottone per favore fai una virata a destra che gli arrivo da sopra con la dinamite guarda che un po' proprio è vero chi è? no è quello grosso è il giandugiotto che adesso è il giardotto c'è un giardotto ineggiando perlora cheégia ha fatto saltare il giardotto porto carlo da vivi un saluto motore disattivato esplode tutto il carro comunque raga c'è una proposta ci sono delle persone sulla torre a destra di D ok ho visto un david esplodere malamente eh si perchè quando spara qualcuno io parte un'allarme che si dicono il bastardo è lì uccidetelo mezzola però arriva in un punto e quando ci arrivi muori però è troppo bello uccidere in mezzo alla nebbia che hanno fatti fuori due tremo bimbi 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 con il ding del casco poi io vedo quale che mi dice il livello 10 del supporto mi l'ho ucciso l'ho ucciso ho usato tre granate due anticarro una anticarro leggera e un caricatore intero di attraverso bella bella mi piace andare a nemmocchio gli sto riformando sulla tua roba e aspetta perché sto sparando della gente in lontananza come il nemico controlla tutti gli obiettivi sera di servizio ho solo 28 munizioni ho bisogno di munizioni disperatamente quindi c'è un nemico che sento noi mi inizia e cabella era lì che tentava di scavare la montagna con un babbione mi manca la granata da ricaricare ok ci sono dov'è che sei dai per favore avevo il flamiere e volevo venire a bruciarti a leti ti giuro che in mezzo a tutti i miei compagni di squadra mi hanno baionettato dov'è che sei il bastardo che ti ammazzo sei le palle dimmi dove sei sono su Charlie io ti sto aspettando scrotto ti sto cercando no ma uccide un tuo compagno dai sul c il bastardo vedi perché è più divertente se stai in là che porco che sei che porco che sei ah mio dio sai quando è tipo quando ti fanno i grattini che tu sei lì bello tranquillo che ti accoccoli no non lo so guarda quanti ne sto uccidendo porco guarda guarda mi interessa non solo ho ucciso te anche tutta la tua squadra oh goddello ci sono tanti e cane bastardo mi dà un muoio mai sometimes coming to town eh ho ucciso anche quel porco di fiancate ma come va giù ma come va giù ma come va giù mamma che bello miseria va lì troppo spettacolo via e non c'è più ponte anch'io anch'io mi ho spottato prima però ce l'ho fatto ucciso ce l'ho ucciso non mi hai ucciso mi ho svanculato tutti e due con un colpo guarda questa la salvo la metto sul gruppo mi ho svanculato mi ho svanculato mi ho svanculato Grazie.